L'ex sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro lancia l'appello all'unità del centro-sinistra in vista delle prossime elezioni amministrative del Comune Costiero. Mastromauro è tornato a parlare dopo la sconfitta nelle recenti regionali, invitando tutte le forze civiche, progressiste e solidali della città a fare un passo di lato e a lavorare su un progetto unitario visto che ad oggi sembrerebbero essere quattro i candidati provenienti dall'area di centro-sinistra. Sento la grande responsabilità dopo due mesi in cui ho staccato la spina all'indomani delle elezioni regionali, nell'imminenza della presentazione delle liste e del risultato che porterà alla disegnazione del mio successore a sindaco di questa città per il prossimo quinquennio, sento una grande responsabilità perché noto una frammentazione enorme in quell'ambito civico, progressista, solidale che ha sostenuto le mie due candidature, i miei due mandati che si sono frammentati. Io dico non possiamo permetterci di lasciare il governo della città a chi ha interessi forti e non che li sostiene e non ha a cuore, come abbiamo fatto noi, le fasce più deboli della società. Facciamo, io faccio un ultimo appello, c'è ancora tempo, se si vuole, cerchiamo una unità programmatica, una sintesi e un unico candidato che rappresenti queste sensibilità che ancora ci sono e che aspettano di essere rappresentate.